Nel centrocampo del Catania c'è anche da questa stagione Michele Rocca, benvenuto a Catania e ti chiedo subito quali sono state le tue sensazioni e prima ancora le motivazioni che ti hanno portato a scegliere Catania. Ciao innanzitutto grazie mille, sono contentissimo di essere qua, ho ricevuto tantissimi messaggi di benvenuto, tantissimi messaggi anche inaspettati ed è una cosa bellissima. Ho sentito da subito il calore della gente e non vedo l'ora appunto di iniziare per poter ripagare questo affetto e questa fiducia che sto avvertendo in questi giorni, soprattutto anche da parte della proprietà e della società che mi hanno voluto fortemente dall'inizio. Non è stato difficile accettare perché prima di tutto è una piazza importante, questo lo sanno tutti, ma poi soprattutto perché la filosofia della società e l'ambizione della società rispecchiavano quello che stavo cercando. La parola chiave che ti è stata trasmessa dai dirigenti? Ambizione e soprattutto anche lavoro. Ambizione e lavoro che ti hanno portato fin dai primi passi nel mondo del calcio ad avere successi importanti come quello del torneo di Vireggio con l'Inter. Sì, è importante, però è ancora a livello giovanile, quindi purtroppo quando a 17-18 anni poi ti confronti col calcio vero, col calcio dei grandi, è tutta un'altra cosa. Però sì, ho iniziato da lì. Perché la scelta di ispirarti a Marchisio? È un giocatore che fin dall'inizio mi è sempre piaciuto, anche se sono interista, però proprio come modo di giocare mi piaceva molto. Michele Rocca è un assaltatore? Sì, diciamo che mi piace fare un po' tutto, sia fase offensiva, sia fase difensiva, tutto. Il mio obiettivo, quello personale da due o tre anni a questa parte, è quello di cercare di tornare in Serie B. Però l'importante adesso è cercare prima di tutto di trovare un'identità come squadra, perché dobbiamo avere un nostro credo, una nostra filosofia e soprattutto un nostro calcio. Le squadre che vengono qua devono temerci. E poi vedremo. L'importante è lavorare e poi i risultati sono convinto che arriveranno. Ai tifosi cosa vogliamo dire? Ci vediamo presto allo stadio.